Arte terapeuti, musicoterapeuti e psicoterapeuti, attori teatrali esperti di espressione corporea, neurologi, neuropsicologi e tecnici della riabilitazione psichiatrica, saranno le competenze e conoscenze di questi esperti e professionisti a guidare il percorso formativo di coloro che frequenteranno, a partire dal 15 febbraio, il Master Formazione al Metodo delle Arti Terapie, previsto nell'ambito del progetto del Piano Sanitario Nazionale 2017 Officine, Laboratorio Permanente di Arte e Terapia per lo Sviluppo delle Life Skills e la Promozione della Salute. 250 ore di cui 136 a distanza di formazione teorica e 114 ore invece al Chef Pass per partecipare ai laboratori didattici. Si punta alla prevenzione dalle dipendenze giovanili, tra cui ad esempio internet e videogames, e alla possibilità di sviluppare le abilità sociali, cognitive e personali tra i giovani. Il progetto nasce grazie ad un finanziamento su una linea di piano sanitario nazionale, quindi è stato presentato in regione, l'assessorato alla salute ha approvato, ha apprezzato questo progetto, e quindi possiamo contare su questo per poter destinare proprio qui al Chef Pass degli spazi dedicati. E questa sarà un'ulteriore ricchezza che viene da questa prima esperienza, perché da qui in poi, grazie anche alla volontà del direttore Sanfilippo, struttureremo dei laboratori permanenti, attrezzati, e proporremo un'offerta formativa per gli operatori sociosanitari, che avrà un'offerta annuale sempre ricca e specifica. L'idea è proprio quella di poter lavorare sulle emozioni, e quindi sulle competenze cosiddette di vita, le cosiddette life skills, che sono quelle competenze che ognuno di noi può per fortuna affinare o acquisire, addirittura se si comincia già dalla giovane età. Il master, promosso dal Chef Pass in collaborazione con una cooperativa del settore, si rivolge ai referenti scolastici di educazione e promozione degli istituti superiori, e agli operatori sociosanitari delle aziende sanitarie provinciali della Sicilia. L'arte terapia è l'applicazione della bellezza di tutto quello che è il valore delle arti, pensiamo a quante forme espressive possono esserci con l'arte, noi spaziamo dall'arte grafica all'arte recitativa, alla danza, che è un'espressione artistica molto importante, ma pensiamo anche al cinema. Tutto questo dà un senso al nostro essere emozionale, stimola la nostra emilateralità a destra, che è quella della creatività, dell'intuizione, che lavora insieme a quella sinistra e quella più razionale. Allora, se noi riusciamo a dare spazio alle nostre emozioni, al nostro essere creativi e alla nostra capacità di esprimerci, perché non sempre magari c'è data la possibilità di esprimerci, da questo punto di vista, noi riusciamo a utilizzare l'arte come terapia, io direi meglio come cura. Grazie. Grazie.